Noi ci accorgiamo di una cosa che i francesi in fondo nella pratica studiano quello che studiamo noi e sanno le cose sanno la storia fra virgolette no? Quando si chiede ai bambini tu la sai la storia e il bambino risponde sì a seconda della sua concezione della storia sia studiato un po' di faraoni un po' di greci un po' di romani risponde sì la so la storia in realtà la storia non sa nessuno e lui se continuerà a riflettere sulla cosa se ne accorgerà ma ci vorranno decenni prima di accorgersi. Grazie